Fai attenzione ai borseggiatori. Se ti servono informazioni, rivolgiti esclusivamente al personale indivisato in Italia. Compra il biletto. Compra il biletto. Entra, perché ti facciate? Compra il biletto. Continua? Continua? Continua. Passa Platà Graven. 5, 6, 5, 6. 6, 21, 23, 24, 25, 24, 25, 26, 25, 31, 29, 29, 29,ригosal 15, 31, 21, 29, 29, 30, 29, 31, 29, 32, 31, essentiai. Io ti aso lo andate, duakasana. Pasa. Lan de leguo. Continua? Verdi unos notate? Pasaba dadai. Historar abajo. e passa? Da 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 Ua Da Sai devo confermare Avanti Acquesta Acquesta Guata me la andafa Legge landerse Carta Carta Diz de Unis Bas Uzzbatchi Teca trabar ora ci dei ucciso zaino che si morano da da come da guardi non da video questa è una ticca tra le macchina